E quello chi è? Eh, quella è la recluta di cui li parlavo, signor colonnello. Ah, recluta! Ma che il T9 mi ha fregato. Ti do scusa. Salve. Come ti chiami? Io, eh, Paolo. Colonnello. Colonnello. Devi dire signor. Come ti chiami, recluta? Mi chiami... Eh, signor Paolo. Stavi... La risposta. Sappevi che prima o poi... No, che ci tira. Colonnello, colonnello. Stavassi di più. Stavassi di più. Non stavassi.